Apre i battenti la nona edizione di Vini, Ville e Sapori. Il wine show trasloca da Ercolano a Napoli a Villa Pignatelli. Stamane la prima tavola rotonda dedicata al QR Code Campania. A presentare i risultati del progetto regionale Antonio Limone, il direttore dell'istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici. A lui abbiamo chiesto lo stato di salute della nostra agricoltura. Noi su 3.500 esami che abbiamo affattuato rispetto a circa 1.500 aziende che hanno aderito al progetto QR Code, quello del codice a barre, aziende che si sono sottoposte agli esami per garantire la salubrità al cittadino al momento dell'acquisto, abbiamo avuto solo 6 non conformità. Quindi in realtà noi siamo di fronte a una regione che controlla i suoi prodotti, che ha circoscritto le aree a rischio dove la produzione non c'è più, quindi nei 15 ettari che il gruppo di lavoro ha immaginato, non c'è una produzione che arriva sulle tavole dei cittadini e che controlla in modo serrato le attività produttive che invece sono in essere. Quindi diciamo che io credo che a livello italiano questa è una delle regioni che fa più controlli e garanzie maggiori per il consumatore. Vini, Ville e Sapori proseguirà fino a sabato 28 con degustazioni, laboratori, dibattiti aperti al pubblico ed eventi dedicati agli operatori del settore. All'esclusivo Wine Show, che unisce le eccellenze enogastronomiche campane e la bellezza delle dimore storiche, partecipano 50 aziende, di cui 35 cantine. Presente a Villa Pignatelli anche la Col di Retti, con il direttore regionale Simone Ciampoli. I cittadini possono stare tranquilli? Beh, ovviamente la tranquillità è senz'altro la scelta, la misurata, la palotata, ovviamente alla luce anche delle tante piraterie, le agropiraterie, tanta roba che oggi purtroppo viene spacciata anche come falsamente, made in Italy e quant'altro. È ovvio che è sempre bene leggere un'etichetta, sempre bene accertarsi, sempre bene cercare di capire la serietà anche dell'azienda e dei produttori che ci stanno dietro. Perché ovviamente, anche questo può essere indiscriminato, però complessivamente la stragrande maggioranza delle aziende serie, che saranno anche presenti in Expo, questo lo potranno garantire. L'evento è stato patrocinato dal Padiglione Italia dell'Expo di Milano 2015. Tra gli argomenti trattati, anche l'avvio delle aziende verso l'internazionalizzazione. Sponsor dell'iniziativa, la Banca di Credito Cooperativa di Napoli. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il presidente Amedeo Manzo. Noi come banca pensiamo di accompagnarli non solo nella fase costitutiva, attraverso l'acquisto di macchinari, dell'innovazione, dello studio tecnologico, ma anche nella fase dell'esportazione e dell'importazione in materia prima. Tant'è vero che oggi annunciamo la presenza della nostra banca, del Credito Cooperativo all'interno dell'Expo e tutte le attività che i nostri uffici di rappresentanza possono fare sull'estero per accompagnare le iniziative delle imprese italiane, le imprese campane e soprattutto napoletane, che vorranno allargare il grande mondo del marketing, non soltanto al paese, ma a tutto il mondo. Vini Ville e Sapori tornerà nel mese di giugno con un secondo evento nella villa favorita di Ercolano, nell'ambito del 27esimo Festival delle Ville Vesuviane. Ai nostri microfoni l'organizzatore dell'evento, Felice Biasco. L'evento quest'anno gode del patrocinio del Patiglione Italia, di Expo 2015, ma è importante che abbiamo ottenuto questo riconoscimento soprattutto a difesa delle produzioni campane. non ci importa tanto, non è tanto importante il patrocinio quanto è importante il ruolo che cercheremo di giocare nel produrre, nel proporre le nostre aziende su una vetrina internazionale di grande prestigio.